Il microbiota intestinale è costituito da un insieme di batteri, virus, funghi e altri microorganismi che popolano il nostro tratto gastrointestinale. Si stima che ci siano più di 100 trilioni di cellule microbiche nell'intestino umano e che queste rappresentino una massa di 1 barra 2 chili. La sua composizione varia da persona a persona naturalmente e può essere influenzata da diversi fattori tra cui l'età, la dieta, lo stile di vita e l'utilizzo di farmaci come gli antibiotici. Svolge diverse funzioni essenziali per la salute umana, contribuisce alla digestione degli alimenti aiutando a scomporre le fibre alimentari che il nostro organismo non riesce a digerire da solo ed è coinvolto nella produzione di vitamine come la vitamina K e di acidi grassi a catena corta che sono importanti per la salute dell'intestino e dell'organismo in generale. Svolge anche un ruolo cruciale nel regolare il nostro sistema immunitario ma come possiamo influenzare al meglio il nostro microbiota intestinale? La dieta è un fattore fondamentale. Una dieta ricca di fibre sembra essere associata a una maggiore diversità del microbiota intestinale e a una minore incidenza di alcune malattie. Al contrario una dieta ricca di grassi saturi e zuccheri sembra poter alterare la composizione del microbiota intestinale favorendo l'insorgenza di obesità e di diabete. Se vuoi scoprire tutte le sue correlazioni con la nostra salute, leggi l'articolo in altrostile.net